Promettere lo scenario geopolitico e cancellare l'accordo di Winslow per sempre Dovevamo immaginare perché ci avevano richiamati alla base noi Eravamo un pericolo, non potevano rischiare Quando si tratta di nascondere un segreto Certa gente è molto pericolosa Ci avevano parlato di una semplice diagnostica Ma non era la verità Volevano ucciderci tutti Ma quando siamo arrivati erano già tutti morti Massacrati da un uomo dei 54 immortali chiamato Chishon Sapevamo bene che ci avrebbero breccato Così abbiamo dovuto fare un accordo con gli immortali e andarcene da Singapore Non è andata così, Sara Noi abbiamo visto i filmati sui drag Voi... Voi... Li avete ammazzati a sangue freddo Dopodiché avete inscenato quello rituale Voi gli avete negato la reincarnazione Proprio come Jejong Perché? Grazie a tutti.